La battipagliese annuncia di aver tesserato il calciatore Francesco Guerrera, nato a Battipaglia nel 1989. Guerrera è un centrocampista centrale che ha vestito le casacche, tra le altre, di Salernitana e Battipagliese, fino alla passata stagione dove ha indossato anche i gradi di capitano. Al momento della firma, Guerrera ha dichiarato «C'è voluto un po' di tempo per firmare rispetto agli altri calciatori, ma alla fine la società ha fatto di tutto per accontentarmi. Con l'allenatore ho un rapporto da molti anni perché ho giocato con lui alla Salernitana. Sia Guariglia che il team manager Magliano hanno fatto di tutto per farmi tornare e io sono molto contento. Il calciatore Francesco Guerrera è già a disposizione del team Vincenzo Fusco».